Grazie di aver telefonato, saluti a casa, che ci segue solito anche con la moglie. Alta telefonata Daniele, è pronto? Pronto, sono Mario. Mario, benvenuto, da dove ci chiami? Da Sterpete, vicino Foligno. Da Sterpete, vicino Foligno, altro amico di Foligno. Siamo stati a Sterpete, no? No, no, no. È un bello paese, cioè ci poteste venire ogni tanto. E chiamateci, no? No, 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 no. Quando volete venire noi siamo sempre disponibili. Noi abbiamo spettacolo di cavarè, adesso stiamo provando il prossimo nuovo per le piazze dove non siamo stati. E tu lo fate, tu lo fai. In dove ci chiamano? Ah, è interessante. Siamo io andrà. Speriamo che lo fanno io a noi, mannaggia la Madonna. Oh, calma eh. Senti qua, come non detto. Vi raccomando, chiamateci, chiamateci. Quali vuoi? Scatole, scatole. Scatole, scatole. Vediamo un po'. Le scatole, il numero, scegli il numero. Quale numero vuoi? 19? 19. 19, non è stato scelto? Vediamo un po'. Dov'è il 19? 19, eccolo, vediamo un po' se c'è qualcosa, attenzione, l'abbiamo dato i tanti di presto. Allora, lo facciamo aprire a Luca, lo facciamo aprire a Luca. Sì, Luca che è un bello ragazzo. Forza, forza, vediamo un po'. Dai Luca, eh. Guarda un po'. E basta lo... Niente da fare, niente da fare per il nostro amico di Sterpete. Niente da fare con il numero 19. Grazie di aver telefonato.